Questa sera sono molto contento, sono molto contento perché Pioli non ha fatto solo una cosa giusta, ma ne ha fatte due in un colpo solo. La prima è quella di, giustamente, aver scelto di dedicarsi totalmente all'Europa League e snobbare questo campionato. La seconda è quella di aver mostrato a tutti gli incapaci tifosi milanisti del web e non che questa squadra, se scende in campo con Okafor, Jovic e Ciuqueze, gente costata circa 50 milioni, vale meno del Monza. Questo è il Milanone.